Una squadra a fia da pia. Grande attesa per la nuova edizione di Vacanze Romane, la commedia musicale più romantica di tutti i tempi, che vede protagonisti Serena Autiri e Paolo Conticini al Teatro Agusteo. Tratto dal film diretto da William Wyler e interpretato da due leggende del cinema, come Audrey Hepburn e Gregory Peck, questo meraviglioso affresco di Roma che generoso e sognante rimerge dalla guerra, è l'ultima testimonianza teatrale del monumentale sodalizio artistico tra Pietro Garinei e Armando Trovaioli. Ma ascoltiamo la protagonista Serena Autiri. Penso che sia il momento migliore per poter rivivere quella leggerezza, quell'allegria, quei colori, quelle buone speranze, la speranza di vedere un futuro roseo. Venire a teatro qui all'Augusteo per vedere questo spettacolo, quindi per trascorrere due ore e mezza di vera leggerezza, di sogno, dove si ride anche tanto, ci si commuove e si ascoltano queste canzoni meravigliose di Armando Trovaioli. È uno spettacolo che è nato sotto una buona stella, undici anni fa, sotto le cure di Pietro Garinei, sotto la sua regia, questo sodalizio meraviglioso tra Garinei e Trovaioli e questo forte sodalizio, ripeto la stessa parola, tra l'Augusteo e il Teatro Sistina, che da sempre è esistito e continua a vivere, continua ad esistere e quindi non potevamo non tornare qui. Poi, dopo che Francesco Caccavalle l'ha desiderato talmente tanto, in questi anni l'ho sempre incontrato e mi proponeva sempre, ma perché non rifacciamo vacanze romane? Quindi eccoci, siamo qui, siamo felici e mi sento proprio a casa con questo spettacolo. Con lei sul palco, l'attore toscano Paolo Conticini. È una soddisfazione immensa per me fare un romano perché è come una seconda mia città e quindi questo spettacolo per me, sono orgoglioso di fare vacanze romane e di interpretare un giornalista romano. Lo spettacolo sarà in scena fino al 29 novembre all'Augusteo. Un cartellone ricco nello storico teatro, come spiega ai nostri microfoni Anna Chiara Caccavalle. Quest'anno l'ha fatto mio marito, adesso dobbiamo vedere io, mio figlio e mio anuro che cosa saremo capaci di fare. Quest'anno è un grande cartellone, sta piacendo moltissimo perché alterna le cose classiche alle cose divertenti, prosa, musical, c'è proprio di tutto, molti giovani, per cui è un cartellone che sta andando proprio a ruota libera, in salita, quindi funziona benissimo. Dobbiamo riuscirci anche per l'anno prossimo, ma siamo già al lavoro e abbiamo già delle idee.